L'abbazia di Monte Cassino, allora scopriamola in grand'arte con l'inviata Donatella Ansovini. Il legame tra l'abbazia di Monte Cassino e Dante è più che saldo. Primo per le terzine che il sommo poeta dedicò a San Benedetto nel ventiduesimo canto del paradiso e poi per il carattere spirituale e mistico del capolavoro di Dante. Ecco perché per l'occasione dei 700 anni della morte del padre della lingua italiana si è pensato di organizzare qui un'esposizione davvero unica. Nonostante le numerose ferite subite nel corso della sua storia plurisecolare, con l'ultima più recente della distruzione a seguito dei bombardamenti del 1944, l'abbazia di Monte Cassino preserva ancora preziose testimonianze del suo illustre passato tra questo è un patrimonio di antichi volumi, inculcati di Napoli, Codice e Pergamene. Proprio da qui proviene un documento straordinario esposto per la prima volta al mondo in una mostra allestita al museo dell'abbazia. Il codice 512 della Divina Commedia, redatto nel meno 50 anni dopo la morte di Dante Alighieri. Oltre a contenere il testo completo, diciamo, delle tre cantiche della Divina Commedia, contiene anche delle glosse in buona parte ispirate a uno dei commenti più importanti e anche più antichi della Divina Commedia, cioè il commento di Pietro Alighieri, cioè il figlio primogenico di Dante. In mostra anche alcuni antichi stampati conservati nella biblioteca dell'abbazia. Un incunabolo del 1478, miniato, molto elegante, che è stato stampato sei anni dopo la prima stampa della Divina Commedia che è stata stampata a Foligno nel 1472. Questo libricino è di importanza fondamentale, primo perché, pensate, è stato stampato a Venezia nel 1572 da Aldo Manuzio, uno dei più grandi tipografi di tutti i tempi, ma soprattutto perché può considerarsi la prima edizione tascabile della Divina Commedia. Testimoni della prima incredibile vetta raggiunta dalla lingua italiana che rimandano a un documento unico agli origini di quella stessa lingua, il Placito Capuano, che siamo eccezionalmente in grado di mostrare in versione originale nell'archivio dell'abbazia. Questo documento giuridico del 960 d.C. contiene anche una formula di testimonianza a favore del monastero in merito a una disputa per la proprietà di alcune terre. Questo è il cuore, potremmo dire, linguistico del documento stesso. Il documento è redatto in latino e questa formula invece si incastona all'interno di questo documento come una formula volgare. E qui al centro della pergamena si trovano pensate quelle parole celeberrime che ogni studente apprende quando studia le origini della lingua italiana. Sao, coche le terre, perché le figli, quechi col terre.